il grasso e il magro a una stazione della linea ferroviaria di nikolayev si incontrarono due amici uno grasso l'altro magro il grasso aveva allora allora pranzato alla stazione e le sue labbra unte di burro erano lucide come ciliegie mature sentiva di xeres e di fleur d'orange il magro era allora allora sceso dal vagone ed era carico di valigie di fagotti e di scatole sentiva di prosciutto e di fondi di caffè di dietro la sua schiena sbirciavano una donna magrolina con un lungo mento sua moglie e uno studente di ginnasio alto con un occhio socchiuso suo figlio porfiri esgramò il grasso vedendo il magro sei tu tesoro mio da quanti anni non ci vediamo santi del paradiso fece il magro pieno di meraviglia miscia il mio amico d'infanzia di dove sbuchi gli amici si abbracciarono tre volte e si scrutarono a vicenda negli occhi pieni di racrime tutti e due erano piacevolmente sbalorditi mio caro cominciò il magro dopo gli abbracci non me l'aspettavo davvero questa sì che è una sorpresa beh guardami un po per benino sempre bello come prima sempre elegante profumato oh mio dio ebbene che fai sei ricco ammogliato io ho moglie come vedi ecco questa è mia moglie luisa nata avanti in spach luterana e questo mio figlio nafana il aluno della terza classe questo nafana è un amico d'infanzia al ginnasio abbiamo studiato insieme nafana il riflette un po e si levò il berretto abbiamo studiato insieme al ginnasio continuò il magro ti ricordi come ti avevamo soprannominato ti chiamavamo erostrato perché avevi bruciato con una sigaretta il diario di scuola quanto a me mi chiamavano le fialte perché mi piaceva far la spia eravamo bambini non aver paura nafana fate più vicina luisa questa è mia moglie nata avanti in spach luterana nafana il riflette un po e si nascose dietro il padre ma è come trepassi caro domandò il grasso guardando estasiato l'amico sei impiegato hai fatto carriera sono impiegato mio caro già da due anni sono assessore collegiale e ho la croce di santo stallinslao lo stipendio è misero beh si è fatta la volontà di dio mia moglie da lezioni di musica e io nella mia vita privata fabbrico dei portasigari di legno splendidi portasigari li vendo un rublo l'uno per chi ne compra dieci o più tu lo capisci c'è uno sconto sbarchiamo il lunario sono stato impiegato sai al ministero ma ora mi hanno trasferito qui come capo ufficio nella stessa amministrazione lavorerò qui e tu come te la passi immagino sarai già consigliere di stato eh no mio caro va un po più in su disse il grasso sono già arrivato a consigliere segreto ho due stelle il magro a un tratto in pallidì restò di sasso ma ben presto il suo viso si deformò da tutte le parti nel più ampio dei sorrisi dal viso e dagli occhi pareva che sprizzasse faville tutta la sua persona si contraste si piegò si fece piccola piccola le sue valise i suoi fagotti e le sue scatole si rimpicciolirono e si rattrappirono il lungomento della moglie diventò ancora più lungo la fanail si mise sull'attenti e si abbottonò tutti i bottoni della divisa io eccellenza sono felicissimo era si può dire un amico d'infanzia e ora un tratto è diventato una personalità via basta fece il grasso accigliandosi perché questo tono noi siamo amici d'infanzia perché questo cerimoniale scusate vi pare il magro ridacchiò facendosi ancora più piccolo la graziosa attenzione di vostra eccellenza come un umore vivificante ecco eccellenza questo è mio figlio nafana il mia moglie luisa luterana in un certo qual modo il grasso avrebbe voluto rispondere qualche cosa ma sul viso del magro era dipinta tanta reverenza tanta dolcezza e tanta rispettosa acidità che il consigliere segreto si sentì nauseato si staccò dal magro gli porse la mano per congedarsi il magro strinse tre dita si inchiodò con tutto il corpo e riprese ridacchiare come un cinese sua moglie sorrise nafana il strisciò un piede per inchinarsi e lasciò cadere il berretto tutti e tre erano piacevolmente sbalorditi